Buongiorno cari amici, oggi è 30 maggio 2024, io condivido con voi il solito video dell'approfondimento giornaliero dell'operazione militare speciale oppure come ormai molti chiamano questo conflitto, la guerra tra la Russia e l'Occidente collettivo sul territorio dell'ex Ucraina. Vi racconterò delle notizie più importanti che sono avvenuti in prima linea e anche nelle retrovie nelle ultime 24 ore. Innanzitutto cari amici, di notte l'esercito ucraino ha tentato di attaccare le infrastrutture di trasporto della città di Kerch, in Crimea principalmente, hanno ammirato di far esplodere il ponte di Crimea. Io vi ricordo che proprio in questi giorni c'è stato tutto un teatrino del discorso occidentale, gli occidentali hanno fatto questo spettacolo attorno alle armi che possono o non possono essere usati per colpire il territorio russo, le armi occidentali, le armi ovviamente di lunga gettata. Noi abbiamo assistito a questa presa in giro, ovviamente si è trattato palesemente dell'ennesimo modo di trattare l'opinione pubblica occidentale. Alcuni politici occidentali hanno detto sì, noi permettiamo, gli altri hanno detto no, noi non permettiamo. Intanto noi sappiamo che i missili da molto tempo si trovano già sul territorio dell'Ucraina, gli ucraini già utilizzano questi missili per colpire il territorio russo, perché secondo la Costituzione russa, ad esempio, adesso anche le regioni come Lugansk e Donbass fanno parte del territorio russo e ovviamente si tratta semplicemente di insegnare, di far abituare le masse occidentali al fatto che le armi di distruzione di massa e le armi come i missili che vengono utilizzati dagli ucraini, missili a lungo raggio, missili balistici, missili da crociera, possono essere utilizzati per colpire la Russia. Adesso vi cercano di fare davanti a voi questo teatrino, vi raccontano sì, dobbiamo trovare un consenso, dobbiamo trovare una via di mezzo, però intanto vi abituano al fatto che è normale discutere e normale accettare il fatto che territorio della federazione russa può essere colpito con le armi occidentali. Così magari voi un po' nei social vi sfogate, un po' qualcuno probabilmente fa qualche manifestazione, qualche pacifista, ma poi dopo comunque questi andranno avanti con i loro progetti e lo step successivo che remisce sarà che su queste armi monteranno le armi nucleari, le testate nucleari. Quindi questi missili da crociera potranno essere trasformati nei missili portatori delle armi nucleari tattiche e questo è solo un inesprimento passo dopo passo di una guerra che secondo gli oligarchi occidentali deve essere una guerra in cui la Russia e l'Europa occidentale devono essere distrutti in un enorme incendio termonucleare. Questo è il loro obiettivo. Siccome non riescono più a controllare né i russi né l'Europa occidentale, sanno che c'è il timore di una riunione tra questi due poli e la creazione di un nuovo polo geopolitico che sicuramente cancellerà completamente il dominio degli anglosassoni, a loro va bene che questi due poli scoppiano nella guerra nucleare. Proprio per questo motivo stanno facendo adesso questi discorsi. Proprio per questo motivo noi dei nostri giornalisti e dei nostri giornali ascoltiamo queste balle sul fatto che qualcuno ha accettato, l'altro non vuole accettare. Amici, indipendentemente da quello che fa questo teatrino politico, perché comunque sono le persone che non decidono niente, Macron, Scholz, anche la nostra Meloni, da loro non dipende niente, sono persone completamente sotto il controllo del sistema oligarchico anglosassone. Quando gli anglosassoni vogliono qualcosa questi si piegano avanti, dicono sì signore e fanno tutto quello che vuole il segmento dell'oligarchia anglosassone da loro. E quindi adesso tutto questo teatrino serve solo per ammorbidire e far passare nella società occidentale l'idea che il territorio della Russia può essere colpito con i missili potenziali trasportatori delle testate nucleari. Preparatevi perché la situazione è veramente veramente brutta. E comunque nonostante cari amici i dibattiti, nonostante tutta questa sorta di scontro politico che è tutto finto, sottolineo, perché tutto è già stato deciso. Tutto quello che noi vediamo nei giornali è solo una presa in giro. Ci prendono per i fondeli solo perché devono farci abituare all'idea che il territorio russo deve essere colpito dalle armi occidentali. Fine. E quindi tutto questo serve solo per un po' annebbiare le nostre menti. Ma in realtà le armi ci sono già, gli ucraini sono già pronti, la NATO già fornisce a loro tutto quello che serve per utilizzare questi missili, tutte le immagini satellitari, sistemi di puntamento. Ci sono i specialisti della NATO che sono schierati sul territorio dell'Ucraina, quindi stiamo parlando di una macchina da guerra che già esiste e già pronta per colpire il territorio russo se serve con le armi termonucleari. Quindi stanotte hanno cercato di colpire con i missili da crociera, attacche MS con i missili con scalp, hanno cercato di colpire il ponte di Crimea. In tutto sono stati lanciati circa 20 missili russi, dicono che hanno abbattuto tutti, ci sono stati lanciati anche droni navali, i russi hanno abbattuto e distrutto anche droni navali. Il ministro di trasporti della Crimea ha riferito che durante la repressione dell'attacco due traghetti, un automobilistico e un ferroviario, sono stati danneggiati dai detriti e dei missili abbattuti. I vetri delle cabine sono stati danneggiati, non ci sono state vittime tra marinaio e civile, ci sono state anche segnalazioni della distruzione dei droni navali a largo della costa occidentale della Crimea, c'è anche un video che io ho condiviso sul mio canale privato Telegram, su questo video si vede come i russi per la prima volta utilizzano i droni FPV lanciati dalle piattaforme navali che distruggono i droni navali ucraini. Quindi i russi evidentemente oltre a utilizzare gli elicotteri, oltre a utilizzare le navi da pattuglia, oltre a utilizzare i droni di osservazione, hanno iniziato a utilizzare anche i droni FPV per distruggere i droni navali ucraini e a quanto pare con grande successo, perché questo drone fa a pezzi nel video, si vede come fa a pezzi il drone navale ucraino. Io sempre vi invito di andare sul mio canale, abbonarvi al mio canale privato Telegram perché condivido tutto quello che i nostri giornalisti occidentali non condividono con voi, quindi il link per abbonamento lo troverete nella descrizione a questo video, andate a vedere questi materiali. Le forze aerospaziali russe hanno lanciato un attacco aereo congiunto contro obiettivi nelle retrovie ucraine questa notte, ieri sera ci sono stati segnalazioni da parte del servizio di antiaereo ucraino, hanno diffuso allarme su tutto il territorio dell'Ucraina e hanno detto che i sistemi di satelliti della Nato hanno comunicato agli ucraini che da diversi aeroporti militari russi sono saliti in aria circa 10 bombardieri strategici Tu-95MS, poi sono anche saliti in aria i MiG-31K, MiG-31K quando salgono in aria vuol dire che in arrivo i missili, i personici Kinjal sono missili molto temuti dalla Nato perché non c'è ancora possibilità di abbatterli e poi sono stati lanciati prime ondate dei droni, inizialmente diversi gruppi dei droni Geran-2 hanno risolto il problema dell'apertura dei sistemi di difesa ucraina, ovviamente difesa ucraina, difesa antiaerea si trova in enormi difficoltà, in effetti stanotte in tutto questo bombardamento congiunto non sono riusciti di abbattere neanche un missile, tutti i missili russi sono arrivati, sono precipitati sugli obiettivi verso quali sono stati lanciati. Nel cuore della notte i satelliti della Nato hanno rilevato anche i lanci dei missili dai bombardieri strategici Tu-95MS, la partenza dei missili Kinjal e personici dai MiG-31K, sono state segnalate esplosioni all'aeroporto di Stara-Kostantinov nella regione di Chmielnitsky, nelle regioni di Karikov, Poltava, Vinnitsa, Odessa, Nikolaev e Zaporozhye. Le forze antiaeree ucraine ormai non sono in grado di intercettare e abbattere i missili russi nemmeno con l'assistenza dei satelliti della Nato. Mancano i sistemi di lancio e i radar di terra. Nella regione di Karikov, cari amici, continuano i feroci combattimenti a Volchansk, è stato riferito che l'esercito ucraino ha trasferito nell'area di combattimento unità di centunesima brigata di sicurezza separata dello Stato Maggiore dell'Ucraina. Un riparto che dovrebbe occuparsi della difesa del quartier generale ucraino e delle prime cariche di Stato, se un riparto così viene trasferito al fronte, questo significa che la situazione degli ucraini è più che disperata, perché qua si tratta di un riparto, non è un vero e proprio riparto d'elite, si tratta di un riparto, l'impegno del quale, la preparazione del quale non si basa sulla guerra di trincea, loro non devono fare la guerra di trincea, loro sono specialisti di protezione del quartier generale, di diversi modalità di accompagnamento e protezione delle prime cariche di Stato, quindi la gente che non deve trovarsi assolutamente in prima linea, invece vengono mandati in prima linea proprio nella dritta carne di Volchansk e qua bisogna dire che è un chiaro, l'ennesimo dato che conferma che noi ci troviamo di fronte a un fallimento dell'esercito ucraino, quando i riparti vengono tolti dalle direzioni dove si trovano in difficoltà, come ad esempio è successo già a Zaporogie, a Kherson, da dove sono stati tolti i riparti militari importanti, le brigate della fanteria marittima dei Marines oppure le brigate d'assalto e sono stati trasferiti nella direzione di Kharkov, vuol dire che nella direzione di Kharkov la situazione è disperata per l'esercito ucraino. Diciamo che per adesso dal punto di vista operativo la situazione a Volchansk è caratterizzata dalla preparazione dell'esercito ucraino a una controffensiva in questo settore, gli ucraini veramente vogliono ripetere già falliti tentativi simili controffensivi che hanno fatto a Mariupol, a Bakhmut, a Davdevka, che sono finiti con totale distruzione dell'esercito, con la morte dei militari, però come si dice loro in questo caso a quanto pare hanno i comandanti che pensano così e per questo loro radunano l'esercito e cercano di avvicinare sempre di più riparti di riserva verso la città di Volchansk. Il problema della città di Volchansk è che si trova sotto il controllo di artilleria russa, anche le forze aeree russe bombardano questa città, i russi sono preparati, stanno acquisendo le posizioni favorevole, gli ucraini radunano le forze per la controffensiva, allo stesso tempo i russi tengono sotto il fuoco dell'artilleria, dell'aviazione, l'edificio residenziale a più piani nel centro di Volchansk. diciamo questa è la linea che divide due schieramenti, poi c'è una abbastanza massiccia linea grigia, per cui qua le mappe che di solito fanno vedere vari esperti, alcuni finti esperti di guerra, purtroppo vengono presentati e spiegati alle persone in modo molto tendenzioso, strumentalizzato, io evito di farlo soprattutto perché rappresentando la mappa molti determinano veri e proprie zone di confine, dove passa prima linea. Qua questa guerra, cari amici, è caratterizzata da una linea grigia molto larga. Adesso ad esempio nella città di Volchansk una vera e propria prima linea non esiste, così come non esisteva neanche a Bakhmut, così come non esisteva a Mariupol, non esisteva a Davdyevka. C'è una ondata dei russi che avanza e c'è una grande linea grigia da dove entrano, dove sono costretti di entrare militari ucraini per affrontare i russi, ma militari ucraini all'interno di questa linea grigia non sono in grado di tenere le posizioni. Allo stesso tempo neanche i russi in questa linea grigia non tengono posizioni, soprattutto perché i russi non possono prendere posizioni nella zona che viene bombardata dalla loro stessa artilleria e un'ediozia. Linea grigia esiste proprio per questo, il senso della linea grigia è creare un'area in cui tritare, come veramente in un tritacarne, le forze del nemico. Linea grigia è un territorio che può essere largo da 3 a 10, 15, anche 20 chilometri, che viene costantemente controllato soprattutto dall'artilleria. I russi la controllano con l'artilleria a razzo, di solito. L'arma più efficace per questo tipo di lavoro sono i BM Grad, Uragan, sistemi come TOS-1, TOS-2, TOS-ACCA, Sanzipioc, sono i sistemi di lanciafiamme pesanti, ovvero razzi reattivi non guidati con testate termobariche. Questi sistemi sono utili per danneggiare il nemico su un territorio disabitato, dove il nemico viene attirato usando le forze di terra, poi le forze di terra si scontrano, ci sono scontri e poi le forze di terra si ritirano dietro alla linea di pericolo e la zona viene colpita, bombardata. Questo è il senso del lavoro dei russi a partire da Mariupol, passando per la gran parte delle città che ci sono stati. Gli ucraini non so se non hanno ancora capito questa cosa o se hanno capito ma non hanno stipulato un'altra forma di resistenza a questa forma di azione dei russi, oppure non sono in grado di fare nient'altro. Io non riesco a capire perché gli ucraini continuano a finire nella stessa trappola, però questa è la realtà dei fatti e adesso la vediamo ripetere a Volchansk. Stessa cosa, i russi creano una larga linea grigia dove gli ucraini non tengono nessun tipo di posizione, dove loro sono costretti di arrivare e poi andarsene. La posizione dei russi è abbastanza stabile, i russi di solito usano le frontiere naturali come fiumi, in effetti anche qua sono dietro al fiume Volcea e dall'altra parte stanno bombardando, quindi questo è ciò che sta accadendo a Volchansk. Diciamo che nella direzione di Lips, le unità d'assalto russi stanno invece avanzando, stanotte sono avanzate a una profondità di 150 metri, si tratta di avanzate piccole, avanzate tattiche, qua di parlare di una grande vittoria strategica è molto presto, diciamo che in questo settore i russi stanno prendendo sempre più posizioni favorevole, probabilmente anche questa azione viene fatta in aspettativa di avanzata russa nella direzione di Sumy, perché se noi pensiamo di tutto quello che è stato già annunciato anche dalle autorità ucraine, che ci sarà un'avanzata dalla direzione di Sumy, è normale che i russi adesso stanno livellando la linea di fronte in questa zona e si stanno preparando a coprire il fianco ai loro compagni che arriveranno dal nord. Pesanti combattimenti, cari amici, continuano nella periferia orientale di Chia Sofiar, i russi stanno assaltando le posizioni ucraine con l'appoggio di artilleria e l'aviazione, i russi sicuramente hanno in questa zona l'iniziativa tattica. A ovest di Avdeiv, che le forze armate russe mantengono l'iniziativa ed espandono le zone di controllo, vicino a Umansk e Netailova. In direzione Vrieme, le truppe russe, a seguito di continue operazioni d'assalto, hanno preso il controllo della maggior parte di Staramayorsk e stanno avanzando con battaglie a Urajain. Qua, cari amici, anche bisogna dire che in queste zone, Staramayorsk, Urajain e i russi stanno andando piano perché da molto tempo lì il fronte è stato fermo, adesso loro stanno avanzando con una dinamica abbastanza importante, non stanno andando veloce però non sono neanche lentissimi e bisogna dire che le posizioni ucraine dimostrano di non essere in grado di contenere semplici attacchi dei gruppi tattici. Quindi qua il fronte veramente con un po' di più di spinta rischia di crollare. Nella direzione di Kherson, cari amici, c'è tutto abbastanza stabile, i russi controllano tutta la parte sinistra, da Krenke sono stati, come sapete, spinti fuori i militari ucraini. Qua è divertente la propaganda ucraina che raccontava che i militari si sono ritirati, i militari ucraini hanno fatto una ritirata tattica verso un altro insediamento Casaci e Lagheria, che poi non è stato vero perché a Casaci e Lagheria ci sono i russi, e poi dopo è uscito il video dove abbiamo visto tutti dove sono finiti questi militari ucraini, purtroppo sono finiti tutti i morti uccisi nei scantinati, nei buchi nei quali si rintanavano in una parte di questo villaggio. Quindi per l'ennesima volta il comando ucraino e la propaganda ucraina ha sfruttato la morte dei propri militari per inventare una storia inverosimile quando in realtà questa gente è stata uccisa. Io sono più che sicuro che i loro familiari, è stato raccontato che questi soldati, questi loro padri, madri, fratelli, figli, in realtà non sono morti in guerra ma sono dispersi, sono spariti e quindi adesso famiglie non ricevono neanche la pensione che devono ricevere quando muore un soldato, quando muore un familiare in guerra. La regione di Belgorod, cari amici, è sotto continui attacchi da parte delle forze armate delle forze armate di Ucraina, sono stati colpiti villaggi, Dorogos, совхosne, добrovolle, новostroivca, a 2-a, Bezumina, Porosch, del distretto urbano di Greivoranski, nonchegruzke, Bajustri e Bagun-gorodog del distretto di Borisov. Nel distretto urbano di Shibekinski sono stati colpiti Shibekino, Muram, Stadnikov, Novo e Tavoljanca, Fatteria Muxin, un civile rimasto ferito di versi droni ua v Ucraini di tipo erio sono stati abattuti. Nel regione di Kursk, le forze armate di Ucraina, è bombardato il villaggio di Oleschia, distretto di Sudzanski, il villaggio di Elisavetovka, distretto di Glushkovsky. E droni Ucraini, è attaccato Guiwa, distretto di Sudzanski, городiще, distretto di Rylski, di Krasno-Oktiaberski, Sergejevka, Dronovka, Ninovoilovka, distretto di Glushkovsky. Nel villaggio di Krasno-Oktiaberski, una linea elettrica è stata danegata da un'esplosione e per fortuna non ci sono i feriti e non ci sono le uccisi, grazie a Dio. Le parecchi rep della guerra elettronica hanno soppresso i droni Ucraini vicino al villaggio di Tiotki il villaggio di Dronovka, il villaggio di Elisavetovka, nel distretto di Glushkovsky, il villaggio di Starae Nikolaevka, nel distretto di Rylski, al villaggio Gornal, al villaggio Spalne, al villaggio Aleśnia, nel distretto di Sudzanski. Vecino al villaggio di Nikolaeva Darina, nel distretto di Sudzanski, un droni Ucraino è stato distrutto da apparecchiature per la guerra elettronica e armi leggere. La città di Donetsk, purtroppo, cari amici, ieri è stata colpita con un missile statunitense. Io ho condiviso sul mio canale privato Telegram le immagini, ci sono sia foto che un'immagine video, veramente allucinante. Gli Ucraini hanno lanciato un missile nella zona residenziale, l'esplosione è avvenuta in mezzo tra due palazzi civili da nove piani, distruggendo un distributore. Per puro caso fortunato, nessuno è rimasto ucciso, diverse decine di persone hanno riportato le ferite leggeri da vetri roti delle finestre dei palazzi. Questa, cari amici, è una situazione che purtroppo si ripete. Come avete visto, l'esercito ucraino, a partire dal 2014, sta usando le armi occidentali per colpire i civili, per creare questa forma di terrorismo. Stamattina ho pubblicato un materiale molto interessante che viene diffuso da un comitato investigativo russo che si occupa di investigare sui crimini commessi dai nazisti ucraini durante la loro presenza, la loro occupazione del territorio del Donbass e tra vari crimini che sono citati, sono citati anche i rappimenti di bambini. dal 2014 al settembre 2022, cioè dall'inizio di ripressione del Donbass da parte del regime golpista di Kiev all'entrata sul territorio del Donbass, dell'esercito russo e preso sotto controllo questo territorio, sono spariti ufficialmente, cioè nessuno riesce a trovarli, spariti 1.600 bambini dal Donbass, rapiti bambini che sono stati visti avvicinare dai militari, ci sono casi in cui i bambini sono stati rapiti direttamente da casa, minacciando i genitori, i militari ucraini entravano in casa, dicevano adesso ci sarà bombardamento, uscite, scappate via, prendevano il bambino e lo portavano via, poi i genitori non lo trovavano più, utilizzando questo caos, spaventando la gente, semplicemente portavano via i bambini. Diciamo che gran parte di questi bambini, come poi osserva anche il rapporto dell'organizzazione internazionale legato all'ONU, che ha fatto anche più di un rapporto, hanno dimostrato che la gran parte di questi bambini finiscono in occidente, in occidente venduti, poi venduti sia alle famiglie che vogliono un bambino, sia purtroppo venduti per organi, come i schiavi sessuali e così via. Qua in pratica c'è anche un rapporto molto triste, che dice che prima dell'operazione militare speciale, cioè prima del 2022, molti bambini degli orfonotrofi venivano venduti in massa all'estero, dalle regioni di Donbass, che sono esaporosie e questa cosa veniva gestita da militari ucraini. Quindi questa gentaglia, questi nazisti, non solo stanno massacrando i civili, utilizzando gli uobici, i droni, i missili, tutto quello che le dà l'Occidente, ma loro anche usano le loro armi, il timore, il terrore, per rubare i più piccoli, per rapinare le famiglie dei loro figli e portare via i bambini, come avete capito, in Occidente. E rapiscono anche i meno difesi, cioè più esposti, che sono gli orfani, che non hanno famiglie, non ha nessuno che li cercherà e questa è una cosa veramente allucinante, questa è una cosa che dovrebbe far pensare molti su livello dei crimini che sono stati commessi dall'Occidente e dai suoi rappresentanti diretti ucraini, dai suoi sgherri ucraini sul territorio del Donbass. Io non penso che il popolo russo e soprattutto il popolo del Donbass possa abbastanza in fretta e velocemente dimenticare queste cose. Quindi la brutalità di questa guerra, a mio avviso, anche se la guerra finirà, comunque la brutalità rimarrà ancora molto a vivere dentro le persone in forma dei ricordi. E questo noi dobbiamo capire e comprendere se vogliamo capire cosa veramente sta succedendo adesso nel Donbass, cosa pensano le persone, cosa hanno in testa e così via. Amici, con questo io vorrei salutarvi, vi ringrazio per la vostra attenzione, come sempre prima di salutarvi io vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram, il link per abbonamento si trova nella descrizione a questo video, sul mio canale io racconto e condivido diverse informazioni che non vengono purtroppo approfondite dal nostro mainstream italiano e sul mio canale troverete tantissimi video, foto, le informazioni che provengono da diversi paesi, articoli, interviste, le analisi di vari analisti, esperti, politici, tutto quello che in Italia non si può dire, tutto quello che da noi in Italia ormai viene censurato, perché noi siamo una colonia statunitense, voi potete trovare sul mio canale unico luogo ancora libero è Telegram, dove si può dire, dove si può condividere tutte le informazioni senza essere censurati, il link per abbonamento si trova nella descrizione a questo video, io ogni giorno faccio 100 aggiornamenti, circa 100 aggiornamenti, quindi una massa di informazione per cui vi invito di unirvi a migliaia di persone che ci sono già sul mio canale. Se volete sostenermi qua su YouTube, come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni, per i vostri commenti, tutto questo è molto importante per la mia attività qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.